Siamo al quinto giorno di protesta degli agricoltori nella Valdichiana Aretina e Senese. Il casello A1 di Bettolle è stato nuovamente bloccato in entrambe le direzioni. Lo si legge anche nel sito di Autostrade per l'Italia, dove le notizie dei blocchi sono ormai in tutto il paese dove sono presenti i presidi dei coltivatori. Ci tengono però a far sapere che non sono contro nessuno ma semplicemente a favore dell'agricoltura e del loro lavoro. Voi siete contro il governo, contro l'Europa o siete solo a favore dell'agricoltura? No, siamo solo a favore dell'agricoltura. Noi siamo 4-5 ragazzi, abbiamo aperto questo gruppo, abbiamo avuto questa iniziativa, ma noi stiamo soltanto guardando il nostro futuro. Non siamo assolutamente contro il governo, anzi stiamo cercando in tutti i modi di avere un incontro per provare ad affrontare la problematica. Ma noi chiediamo cose semplici, non chiediamo un gran tanto, chiediamo però soprattutto l'incontro, almeno l'incontro. Per voi è un grande sacrificio questo presidio, perché rimanere qui? Perché vogliamo sperare di ottenere qualcosa, che giustamente abbiamo un sacco di problemi a livello europeo, burocrazia e tutto il resto. Vi sentite svantaggiati rispetto al resto d'Europa in Italia? Secondo me siamo sulla stessa barca, alla fine sono partiti prima tedeschi, poi francesi e poi stiamo partendo un po' tutti, perché è un momento non generale secondo me. Vi aspettate che vi convochi il ministro, un incontro? Sì, stiamo aspettando questo, altrimenti andremo avanti ad oltranza, anche con manifestazioni più importanti, più pesanti, più eclatanti. Ecco, ovviamente potreste creare dei disagi importanti alla popolazione, ma sentite che la gente è con voi? Sinceramente sembra di sì che la gente sia con noi, poi che vi devo dire? Questa è la mia impressione. Ho visto che c'è tanta adesione, le persone anche se stanno bloccate in coda per ore ci applaudono, ci ringraziano, quindi c'è il consenso. Anche dei camionisti e oltretutto mi hanno detto che si stanno iniziando a muovere anche loro.